Lei da dove vieni invece? Le dispiace, signor? No, no, non mi dispiace che me lo chieda. Vengo da... Sono... sono nata in Italia. Italia? Ah! Dall'Italia all'Iowa. E quale parte dell'Italia? Noi abitavamo in una città sull'Adriatico, che lei di certo non conosce, Bari. Bari? La conosco, Bari. No. Sì. Sul serio? Certo. Sì, una volta dovevo fare un servizio in Grecia e sono passato da Bari per andare a Brindisi a imbarcarmi. E guardando da finestrino mi sembrò una città piacevole. Così scesi dal treno e ci restai qualche giorno. Scesi dal treno solo perché le sembrava piacevole? Sì. Sì, esatto. Alla prossima è la prossima. Alla prossima! Grazie per la visione!